Diciottesima domenica del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diressa alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero, Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro, in verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Allora gli dissero, quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, in verità, in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi ha dato il pane dal cielo. Quello vero, infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete. Mai. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco In questa domenica continua la lettura del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Dopo la moltiplicazione dei pani, la gente si era messa a cercare Gesù, e finalmente lo trova presso Cafarnao. Egli comprende bene il motivo di tanto entusiasmo nel seguirlo, e lo rivela con chiarezza. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. In realtà, quelle persone lo seguono per il pane materiale che il giorno precedente aveva placato la loro fame, quando Gesù aveva fatto la moltiplicazione dei pani. Non hanno compreso che quel pane, spezzato per tanti, per molti, era l'espressione dell'amore di Gesù stesso. Hanno dato più valore a quel pane che al suo donatore. Davanti a questa cecità spirituale, Gesù evidenzia la necessità di andare oltre il dono, e scoprire, conoscere il donatore. Dio stesso è il dono, e anche il donatore. E così, da quel pane, da quel gesto, la gente può trovare colui che lo dà, che è Dio. In vita ad aprirsi ad una prospettiva che non è soltanto quella delle preoccupazioni quotidiane del mangiare, del vestire, del successo, della carriera. Gesù parla di un altro cibo, parla di un cibo che non è corruttibile, e che è bene cercare e accogliere. Egli esorta, datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà. E con queste parole ci vuole far capire che, oltre alla fame fisica, l'uomo porta in sé un'altra fame. Tutti noi abbiamo questa fame, una fame più importante, che non può essere saziata con un cibo ordinario. Si tratta di fame di vita, di fame di eternità, che lui solo può appagare, in quanto è il pane della vita. Gesù non elimina la preoccupazione e la ricerca del cibo quotidiano. No, non elimina la preoccupazione di tutto ciò che può rendere la vita più progredita. Ma Gesù ci ricorda che il vero significato del nostro esistere terreno sta alla fine, nell'eternità, sta nell'incontro con lui, che è dono e donatore, e ci ricorda anche che la storia umana, con le sue sofferenze e le sue gioie, deve essere vista in un orizzonte di eternità, cioè in quell'orizzonte dell'incontro definitivo con lui, e questo incontro illumina tutti i giorni della nostra vita. Se noi pensiamo a questo incontro, a questo grande dono, i piccoli doni della vita, anche le sofferenze, le preoccupazioni, saranno illuminate dalla speranza di questo incontro. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà sete, mai, e questo è il riferimento all'eucaristia, il dono più grande che sazia l'anima e il corpo. Incontrare e accogliere in noi Gesù, pane di vita, dà significato e speranza al cammino spesso tortuoso della vita, ma questo pane di vita ci è dato con un compito, cioè perché possiamo a nostra volta saziare la fame spirituale e materiale dei fratelli, annunciando il Vangelo ovunque. Con la testimonianza del nostro atteggiamento fraterno e solidale verso il prossimo, rendiamo presente Cristo e il suo amore in mezzo agli uomini. La Vergine Santa ci sostenga nella ricerca e nella sequela del suo figlio Gesù, il pane vero, il pane vivo, che non si corrompe e dura per la vita eterna.